Dolce tipico della tradizione sono le chiacchiere di carnevale. Sono un dolce molto friabile, ottenuto tirando sottilmente un semplice impasto, successivamente fritto e cosparso di zucchero. La signora Sulta Greco, Sultina, per noi e per i bambini del Catechismo, ha preparato l'impasto. Un chilo di farina, burro, zucchero, quattro rossi di uova, un'arancia spremuta e del vino bianco. I bambini hanno fatto il resto. Il carnevale è una festa che si celebra nei paesi di tradizione cristiana. La parola carnevale deriva dal latino carnem levare, eliminare la carne, poiché, anticamente, indicava il banchetto che si teneva all'ultimo giorno di carnevale, martedì grasso, subito prima del periodo di astinenza e digiuno della quaresma. Le chiacchiere sono croccanti e delicate sfoglie e a seconda della regione di provenienza si chiamano chiacchiere e lattughe in Lombardia, cenci e donzelle in Toscana, frappe e sfrappole in Emilia, crostoli in Trentino, galani e gale in Veneto, bugie in Piemonte, così come rosoni, lasagne e pampuglie. Buone chiacchiere di carnevale!